Il protagonista è indiscusso di questa serata, devo dire. Nonostante mi hanno rotto la gamba, ho fatto scherzando. È una bella serata, un divertimento. E poi la soddisfazione è quella di vincere così giotalisti. Chi se la toglie questa soddisfazione? Scommettiamo in piazza ed è andata benissimo. Tanta gente, tanto divertimento. Grazie a tutti.